buonasera e bentrovati nelle scorse due edizioni vi parlavamo dell'attesa degli investitori per la conferenza annuale dei banchieri centrali che ha luogo come ogni anno a jackson hall questo evento si terrà da domani fino a sabato dunque è imminente nel frattempo però i listini continentali reagiscono ai ribassi di ieri con una buona prestazione il fuzzimib positivo fin da subito ha poi migliorato ulteriormente il proprio valore nel corso del pomeriggio la variazione di chiusura parla di un più 0 e 72 per cento sale anche il dax in questo caso il progresso è praticamente di mezzo punto percentuale con anche un quadro grafico simile più fredda la situazione a wall street con nasdaq e dow jones che in questo momento stanno rimanendo prossimi alla parità a guardare tutti dall'alto milano e saipem che si riscatta dall'essere stato la maglia nera di ieri le voci su un maxi contratto in arabia saudita cancellano dunque le perdite di 24 ore fa ferrari uno dei pochi titoli in attivo di ieri oggi corre con un progresso che supera i due punti e mezzo lo stesso discorso vale anche per ricordati con la differenza che in questo caso il progresso è del 2 37 moncler sale di oltre il 2 per cento grazie anche alla raccomandazione migliorata da parte di una banca tedesca bene anche banco bpm nessun titolo arriva invece almeno uno il peggiore in questo senso e telecom italia meno 0 73 seguito da alcune utility sul forex euro dollaro è stato quasi sempre negativo anche se di poco tuttavia a partire dalle ore 16 ha iniziato un recupero che ha riportato il cambio sopra i valori di mezzanotte leggermente positivo anche il cross euro yen che ieri era in netto calo scende invece il rapporto contro la sterlina britannica per oggi è tutto grazie per l'attenzione un saluto e un arrivederci a domani buona serata